eccoci arrivati ad un nuovo video vi renderete conto che questo video è la prosecuzione del video precedente in quanto sto trattando praticamente lo stesso argomento ovvero come la preghiera coincida con la legge di attrazione quando noi praticamente preghiamo solitamente preghiamo per ringraziare o per chiedere la legge di attrazione è un processo elettromagnetico o anche non locale vi spiegherò il significato di queste parole che avviene proprio quando chiediamo qualcosa al nostro ambiente e la legge oltretutto come vi ho spiegato nel video precedente funziona sempre perché è una legge legge significa che sempre 24 ore su 24 in funzione funziona sempre in modo particolare nel mio video precedente ho fatto l'esempio che adesso porterò avanti che è quello che riguarda di un giovane che sogna di volere fare il ballerino vuole partecipare a concorsi e tutto quello che fa lui pensa di espletarlo attraverso i cinque sensi in realtà le comunicazioni che arrivano all'esaminatore bypassano i cinque sensi perché chiaramente lui se io mi presento vedrà come sono fatto fisicamente quindi comunicherà con gli occhi potrà sentire il timbro della mia voce il suono della mia voce potrà sentire il mio odore potrà stringermi la mano comunichiamo attraverso i cinque sensi in modo bilaterale questo ormai penso sia chiaro però all'esaminatore arrivano altri tipi di informazioni e la legge di attrazione si basa su queste informazioni in primo luogo una informazione che arriva all'esaminatore è quella del nostro campo magnetico anche questa l'ho già spiegata nel video precedente significa che la somma di tutte le nostre emozioni che è supportata fisicamente da campi magnetici si unisce a quella del campo magnetico dell'esaminatore creando un campo magnetico unico per cui abbiamo uno scambio di informazioni inconscio che bypassa cinque sensi dovuto proprio al campo magnetico delle correnti che strutturano e che tengono in funzione il mio corpo fisico e questo argomento è già stato trattato nel video precedente ricordatevi nuovamente che la legge di attrazione funziona sempre essendo un medico e quindi avendo avuto una formazione scientifica vi ricordo di prendere come posso dire con i guanti quello che vedete sto dicendo perché questa cosa l'ho già spiegata anche in altri video non si può pensare che una città distrutta da uno tsunami o da un bombardamento aereo o da un terremoto fosse caratterizzata da tutte persone che che volessero la distruzione di questa città oppure non si può pensare che all'interno di questo luogo nel quale si è abbattuta una una disgrazia di tante elevate proporzioni le persone non sognassero non avessero ambizioni o non emettessero nell'ambiente degli impulsi legati alla legge di attrazione o non attraessero quello che volevano perché altrimenti mi viene in mente ma tutte queste persone cosa stavano attirando hanno attirato uno tsunami è colpa loro cioè vi rendete conto non bisogna pensare che tutto questo sia vero al cento per cento però mi rendo anche conto che se voi osservate il vostro intorno se osservate la vita di molti personaggi vi rendete conto che la legge di attrazione è stata la base del loro successo per cui incominciamo a dire che in mancanza di eventi esterni di gravi entità come può essere una guerra un terremoto uno tsunami o comunque una catastrofe naturale la legge di attrazione funziona capite bene che non posso dare risposte a tutto mi sto sforzando di continuare a studiare può darsi magari tra qualche anno riesca a dare qualche delucidazione in più però ecco non si può pensare che persone che sono morte schiacciate sotto i tetti di edifici che sono venuti giù a casa di terremoti fossero responsabili di tutto questo questo me ne guardo bene dal dirlo mi guardo bene dal dirlo allora ripetiamo il fatto che la legge di attrazione funziona sempre questa cosa la ripeterò all'infinito se io vado a fare il colloquio per essere un ballerino arriva all'esaminatore un impulso extrasensoriale che dimostra chi sono gli arriva avete capito gli arriva quindi non è che io posso semplicemente esprimere il desiderio di essere il migliore ballerino perché prima di tutto devo esserne convinto e devo fare in modo che quando mi presento ad un colloquio io devo esserne convinto al cento per cento questo significa che tutte le volte che noi dobbiamo raggiungere o abbiamo l'ambizione di ottenere un risultato che per noi è importante dobbiamo lavorarci sopra perché capite bene essere un ballerino significa allenarsi tutti i giorni tantissime ore significa prendere le lezioni di ballo significa avere una preparazione atletica cardiorespiratoria che mi permetta di che il mio corpo fisico sia in grado di tollerare degli estenuanti allenamenti quindi di avere una dieta di un certo tipo non assumere alcolici dormire le ore sufficienti la notte dedicarmi per intero a questa pratica e nonostante tutto ricordatevi che poi è la genetica che conta tante volte perché quello che i cinesi chiamano lo jing noi siamo nati con un patrimonio genetico per cui ci sono certe persone che proprio per il loro patrimonio genetico a causa del loro patrimonio genetico mai riusciranno a realizzare questo tipo di sogni perché la loro struttura del corpo fisico non glielo permette quindi rendetevi conto anche questo è un altro effetto che gioca a sfavore perché se io sono nato obeso per natura non potrò mai essere primo ballerino di un teatro importante lo capite nonostante io ci possa lavorare sopra chiaramente posso raggiungere ugualmente degli ottimi risultati ma primo ballerino non posso esserlo anche il fatto di avere una struttura fisica che per natura per genetica non mi permette di essere primo ballerino mi permette fa in modo che quando io mi presento ad un colloquio col mio esaminatore io non emetta un impulso magnetico che nel video precedente io in modo arbitrario ho catalogato da 0 a 100 quindi al massimo a 100 perché mi rendo conto che il mio fisico non è un fisico da 100 non arriverò mai a 100 in questo caso posso andare a fare un concorso magari per un un ballo un po più popolare e divertirmi lo stesso e tarare diciamo le mie ambizioni in base ai limiti del mio corpo fisico quindi capite bene che se io ho un'ambizione chiedere attraverso la preghiera o parlando con personaggi non valutabili attraverso i cinque sensi è utile però ecco devo essere anche sicuro di cosa chiedere e fondamentalmente devo anche essere anche conscio di quelli che sono i miei limiti perché ognuno ha dei limiti nello svolgere alcuni compiti essenziali per la nostra vita ricordiamoci sempre che noi emettiamo degli impulsi nell'ambiente e questi impulsi che mettiamo nell'ambiente entrano in risonanza con chi vivrà come noi questa cosa adesso l'andremo ad approfondire rifacciamo quindi una prima piccola sintesi di quanto abbiamo detto fino adesso allora ricordatevi punto numero uno la legge di attrazione è una legge quindi funziona sempre funziona sicuramente attraverso i cinque sensi funziona sicuramente attraverso il campo magnetico che mette il nostro corpo ovvero il corpo emozionale che la somma di tutte le nostre emozioni perché con il nostro corpo emozionale possiamo influenzare i nostri esaminatori o coloro ai quali dobbiamo chiedere per ottenere quello che è uno dei sogni della nostra vita oppure può essere semplicemente per un colloquio di lavoro oppure per un qualcosa che ci interessa può essere una cosa più o meno importante però ecco ricordatevi bene che quando andiamo in giro ci portiamo dietro il nostro corpo emozionale quando siamo a distanza di tre metri uno dall'altro il mio corpo emozionale si fonde con quello delle persone che sono che io incontro se ne crea uno unico e quindi avviene già un passaggio di informazioni in questo modo noi già attraiamo i nostri simili perché se il mio corpo emozionale emette delle emozioni per esempio riguardo al ballo che sono esattamente identiche a quelle del mio esaminatore oppure a persone che hanno desiderio di ballare con me si crea un bellissimo fenomeno di risonanza quindi tutti godiamo delle stesse emozioni e stiamo felici e siamo felici di essere insieme perché godiamo torna a ripetere delle stesse emozioni spero di essere stato chiaro noi però emettiamo anche onde elettromagnetiche quindi ricapitoliamo comunichiamo attraverso i cinque sensi comunichiamo attraverso il nostro corpo emozionale che il campo magnetico totale creato dalla somma di tutte le emozioni del nostro corpo però a noi siamo una struttura elettromagnetica in quanto siamo composti strutturati da atomi quindi noi attraversati continuamente da correnti elettriche che passano sempre attraverso il nostro corpo emettiamo delle onde elettromagnetiche queste onde elettromagnetiche sono chi siamo noi indicano come noi funzioniamo in quel momento e in modo inconsapevole e mettendole nell'ambiente queste onde elettromagnetiche andranno a interferire con quelle emesse da altri soggetti dai nostri simili quindi un altro nostro modo di comunicare è attraverso le onde elettromagnetiche emesse dal nostro corpo fisico vi ho già spiegato nei miei video precedenti che quando le onde elettromagnetiche incontrano onde simili si sommano quindi si crea un bellissimo effetto sommatorio che ci dà un senso di rilassatezza di tranquillità che ci sentiamo bene perché ci sentiamo più forti quindi ad esempio se io adesso voglio fare un concorso per diventare un ballerino è evidente che se incontro un esaminatore che è molto simile a me come frequenza vibratoria quindi che emette delle onde elettromagnetiche molto simili alle mie queste onde si incontreranno ed essendo simili uguali si sommeranno e l'esaminatore si renderà subito conto che lavorare con me sarà un'esperienza meravigliosa e io dal mio lato mi renderò conto che lavorare con lui sarà un'esperienza meravigliosa stessa cosa vale nei confronti di tutte le persone del corpo di ballo che mi aiuteranno quindi persone di sesso femminile altri ballerini altre ballerine e tutti coloro che collaborano come team alla realizzazione di un balletto che potrebbe diventare uno dei balletti più seguiti al mondo osservate sempre che quando si realizza un grande successo è sempre un gioco di squadra andate ad analizzare le persone che fanno parte di questo gioco di squadra persone caratterizzate da simili ambizioni da simili interessi che tutte insieme danno il meglio di loro dando il meglio di loro si crea un effetto sommatorio attraverso le onde elettromagnetiche che emettono e questo effetto sommatorio creerà dei risultati incredibili questo quindi è un secondo nostro modo di comunicare anche questo modo di comunicare fa parte della legge di attrazione perché noi adesso abbiamo aggiunto un altro elemento comunichiamo attraverso i cinque sensi comunichiamo attraverso il nostro corpo emozionale ma comunichiamo anche attraverso le onde elettromagnetiche che vengono emesse dal nostro corpo e riceviamo comunicazioni anche da quelle che sono emesse dai nostri simili e che vengono poi a colpire il nostro corpo quindi noi siamo immersi in un mare di onde elettromagnetiche dalle quali riceviamo informazioni ma nei confronti delle quali anche noi emettiamo informazioni quindi non 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 dobbiamo mai 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 torno a ripetere ho già detto tante volte pensare che noi siamo degli osservatori esterni noi dobbiamo immaginare di essere immersi nelle profondità di un oceano siamo sul fondo dell'oceano atlantico quando noi ci muoviamo in realtà noi siamo tutt'uno con l'oceano per cui una mia bracciata un mio movimento che si svolge nel profondo degli abissi crea comunque sia delle piccole ripercussioni in tutto l'oceano si può come dire che il battito di ali di una farfalla che in australia può causare un temporale a new york perché è tutto collegato chiaramente io ho amplificato da questa cosa non è che una farfalla che vuole in australia possa provocare un temporale a new york o un uragano però rendetevi conto che sicuramente qualcosa fa perché è un tutt'uno non siamo scollegati siamo una unità quindi io ho un po il vizio di ripetere all'infinito i concetti che esprimo ma questo questo canale è stato creato proprio per per seguire un cammino di crescita conoscitiva che solo ripetendo all'infinito tanti concetti penso ci si possa ci si possa arrivare quindi ricordate vi chiudo adesso questo video allora punto numero uno la legge di attrazione è una legge che funziona sempre h24 sempre quindi noi praticamente emettiamo nei confronti dell'ambiente delle informazioni che riguardano come noi siamo nel bene e nel male seconda cosa comunichiamo con l'ambiente attraverso i nostri cinque sensi comunichiamo attraverso il campo magnetico che la somma di tutte le emozioni che caratterizzano il nostro corpo e comunichiamo emettendo e ricevendo onde elettromagnetiche attraverso i nostri cinque sensi comunichiamo attraverso i nostri cinque sensi comunichiamo in